Faccio degli esempi, quando proprio attraverso questa campagna d'ascolto di cui nei primi tre ospedali ho avuto un bel contatto scopro che in una delle asle ci sono 800 auto a disposizione molte delle quali non fanno più di 3.000 o 4.000 km l'anno e allora perché le devo tenere e pagare il bollo? Probabilmente arriverò con una circolare a disporre una contrazione delle auto oppure se scopro che vi è una guardiania eccessiva un sistema delle pulizie su cui potremo risparmiare evidente io penso a questo tipo di interventi sicuramente sarò molto drastico con gli interventi della sanità non sanitari